Eccoci, buonasera, ben ritrovati, sono felice di ritrovarvi in questo nostro appuntamento delle ore 19, abbiamo ricominciato, abbiamo ricominciato venerdì, questa settimana ci vedremo stasera, mercoledì e venerdì per parlare di tutto quello che sta accadendo e soprattutto in questi giorni soprattutto per parlare di quello che avverrà nei prossimi giorni nelle scuole, per le scuole, per i bambini, per i figli. Ecco, dobbiamo in questi giorni indirizzare la nostra attenzione totale ai nostri figli. Allora, prima di entrare in questo argomento vi ricordo la trasmissione di venerdì in cui vi ho raccontato del giudice che dovrebbe decidere sul rinvio a giudizio o meno per le nostre denunce, le denunce che hanno fatto altri avvocati, tantissimi di noi singoli cittadini, contro il governo per violazione dei diritti costituzionali. E sapete che venerdì vi ho comunicato quello che dice la stampa, riguardiamo quello che dice la stampa, eh? Guardate, lo ricordiamo, ho fatto vedere questo articolo, è uno dei cento articoli, se voi cliccate su Google e scrivete giudice Clementina Forleo, ecco quello che dice la stampa, sarà il giudice Clementina Forleo a decidere la sorte di Conte e dei ministri. Vi ho fatto vedere questa pagina, non ho fatto vedere altre e quindi ho riportato, l'avvocato polacco ha riportato a voi quello che dice la stampa. Ebbene, il giorno dopo qualche stolto ha iniziato a dire su Facebook, sui social, ah non è vero, è una bugia, falsità, falsità, falsità di che? Denunciate i giornali. Allora, vedete, noi abbiamo impostato il nostro rapporto, da sempre, da mesi, su quello che viene pubblicato, su certificati, non su chiacchiere. Allora, abbiamo visto quello che dice la stampa. Dopodiché, dopo di che? Guardate, vi faccio vedere una cosa, ecco, dovete capire, dovete capire che cosa avviene, dobbiamo capirlo insieme, guardate, data, sarà il giudice Clementina Forleo, la data di questo articolo, guardatela bene, eccolo qui, data, dove sta? Allora, eccola qua, 14 agosto 2020, vedete? 14 agosto 2020, guardate che stranezza, eh? 14 agosto 2020, vi ricordo, vi ricordo, vi ricordo che questo, vi ricordo che questo, ecco, adesso siamo, c'è qualche problema di immagine, facciamo, vediamo se riusciamo a ripristinare l'immagine, va bene, non ci importa nulla, facciamo in questo modo, eccoci qui, allora, allora, neanche a farlo apposta, io vi volevo ricordare che questo giudice era quello che aveva indagato Unipol, quindi parecchi ministri, era stata trasferita, era stata messa sotto processo, è una donna, un magistrato che aveva combattuto contro l'impero dei potenti, quindi è già, ha già passato, è stata, è stata spostata, ne ha viste in tutti i colori. Allora, i giornali, senza che siano stati smentiti nessun giornale, il 14 agosto hanno riportato questa notizia, guardate che cosa succede, guardate, guardate la data, vi faccio vedere prima la data, ecco qui, ecco, eccola, guardate la data, il 23 agosto il giudice Clementina Forleo, preciso di non essere componente del Tribunale dei Ministri, non ha lasciato alcuna dichiarazione sul procedimento.